Quasi le due, più o meno a caso, oggi andrò al mare con dei miei amici per fare l'ultima vacanza di questa estate L'unico problema è che devo fare valigie e tutto quanto, è un casino Tutto più o meno pronto 8.30 di mattina, ho dormito ben poco, incredibilmente sono riuscito a preparare le valigie Ho deciso più o meno a caso che oggi parto Andrò al mare con i miei amici in Liguria per l'ultima vacanza dell'estate, giusto per Questo è il piano Siamo partiti Sono già in modalità mare Oh, lo vedo già Andiamo a Camogli, mangiamo un Camogli Mi sembra giusto Mare Acquario Arrivati Siamo finiti a Camogli, io sembro tipo un esploratore della natura selvaggio Con le pinne C'è già aria di mare Oddio, ero venuto qua tipo 4 anni fa Non ce la faccio Troppi ricordi 5 piani di scala a piedi E anche oggi, ginnastica fatta Questa sarà la nostra locazione Soggiorno, bagno, cucina, istruzioni per l'uso Instagram, camera patronale e vista su Camogli Figo Sì, l'ho preso bene, dai La in fondo c'è Genova È l'una E da bravi casalinghi quali siamo stiamo andando a fare la spesa Così siamo a posto Gulliver 40 minuti di spesa È stata dura Ma ce l'abbiamo fatta 77 euro Abbiamo preso tutto C'è mezz'ora che ti aspettiamo però Si vede che è il mio posto Ordine e disciplina Comandi Pronti Piazzetta di Camogli Molto piazzetta Siamo in Liguria Focaccina Com'è essere celiaci e non poter mangiare la focaccia ligure? Un saluto a tutti i miei amici celiaci Sono con voi Here we are Senti l'aria pulita con gli scarichi delle navi Direi che questa ultima vacanza dell'estate inizia alla grande Mi chiamavano Capitan Yaki nel tempo libero Testiamo subito quest'acqua 1, 2, 3 Bomba Molto bene Molto buona Guarda qua che bella unta Benissimo La miglior cosa della Liguria Polmoni d'acciaio C'è un gabbiano che ci sta puntando malignamente Là La miglior cosa della Liguria Allora bagno fatto Dormita fatta Il buon Mellus ha preso anche Una trilia Se il buon Seba ha squamato e pulito Bravo Adesso stiamo tentando di pescare alla traina Ma la vedo grigia Quindi torneremo a casa E ci rilassiamo Come meglio sappiamo fare Cos? Ah ho fatto anche volare il drone La prima volta che me lo faccio volare Da una barca Inseguire la barca E cose del genere E' stato figo Si però Ho tipo avuto sempre paura Di perderlo E' abbastanza inquietante Terra Il problema di sto posto è che è tutto in salita Tutto Guarda che non faccio caratteristico Scale Casa E' tempo della carbonara Però si fa con il guanciale Non con la pancetta E' ancora un po' gruda Però se non ti sbrighi Ma la tua tanto è sempre molle Seba ma cosa ti costa? Vuoi provare? Provaci Ma schifo? Dimmelo Ho visto carbonara migliori Però non si giudica un libro dalla copertina Quindi assaggiamo Ho mangiato pasta in bianco più buone Ah è pasta senza glutine tra l'altro Ciao sempre ai miei fan celiaci No dai buona Quindi abbiamo mangiato Non faremo niente per tutto il resto della serata Dovremo ritornare la cucina Ma Ci vediamo poi Ogni giorno a mezzogiorno Sempre qui sul canale Ah